ciao ragazzi andiamo a vedere questa bestia di trapano perché non è un trapano ma è una bestia è un trapano bosch dotato di percussione il gsb 18 v 150 c lo conosco già perché l'ho usato qualche mese fa il nuovo nuovo di pacca il gancio manuale questo crede che sia un portabit ed ecco la bestia allora il trapano è pesante sicuramente pesante ma lo ritengo eccezionale pulsante per bloccarlo in questa posizione e poi per avvitare e svitare qui abbiamo la possibilità di inserire un modulo bluetooth ne parleremo dopo velocità 2 velocità 1 trapano avvitatore in tal caso funzionerà la pressione che va da 125 e alla fine abbiamo la percussione per fare i buchi nel cemento armato ad esempio ok perfetto ho già una batteria di mia proprietà andiamo a vederne la carica ok una pro core 4 ampere 18 volt la bosch suggerisce di usare questo tipo di batteria da 5 ampere almeno ma funziona benissimo anche così noterete che è un pochettino rumoroso ma va benissimo mandrino in acciaio ovviamente possibilità di agganciare questo supporto che ritengo essere utilissimo soprattutto quando vi troverete a usare questo trapano con una trivella come faccio io ad esempio nel terreno questo è fondamentale e andiamo a fare un confronto con un altro trapano che posseggo che il bosch gsb 18 volt 28 il peso è molto differente passa anche un chilo da uno all'altro ma la potenza di questo è davvero impressionante andiamo a testarlo con una punta per metallo a carburo della beta sono fatte benissimo ok perfetto mandrino è perfetto assolutamente perfetto non ci sono problemi di nessun tipo ok non vedere adesso le funzionalità più particolari di questo trapano ad esempio andiamo adesso a vedere un'altra importante caratteristica di questo trapano che secondo me è importantissima per la sicurezza dell'utilizzatore diciamo che voglio utilizzare questo trapano per fare dei buchi nel terreno con una trivella da 10 cm addirittura perché ho visto che ci riesce benissimo e il kickback contro permette di salvare il vostro polso ok adesso impostato su on di default impostato su on e quando praticamente girerete si ad esempio la trivella si bloccherà o la punta di un metallo si bloccherà mentre state facendo un foro il trapano si spegnerà automaticamente come potete vedere il trapano si è bloccato e si accenderà il led per segnalare il pericolo perfetto funziona benissimo qui abbiamo inoltre un'altra caratteristica interessante di questo trapano che ti permette di scegliere l'angolazione anche tramite questo led di scegliere l'angolazione in automatico qui abbiamo 45 gradi poi abbiamo 60 gradi e infine abbiamo la possibilità di scegliere tramite il l'app del cellulare l'angolazione che preferiamo di default impostata a 90 gradi cioè così potete potrete fare i buchi nel terreno a 90 gradi anche senza comprare il modulo bluetooth che va inserito qui dentro trapano meraviglioso certo per essere utilizzato come semplice avvitatore per tutta la giornata potrebbe potrebbe risultare piuttosto pesante ma fantastico lo ricomprerei mille altre volte a verci ciao ragazzi alla prossima